Ok, ciao ragazzi da Magiboy, faccio vedere un qualcosa che veramente ha dell'incredibile, un mazzo di carte regolari. Io prendo le carte e le mescolo davanti a voi. Questa faccio vedere che tutto è regolare, ok? Carte completamente mescolate. Ora chiederò a Manuela di dirmi una carta da gioco che vuole lei, libera. Guardate cosa proverò a fare, un qualcosa di veramente miracoloso. Amore, mi dici una carta? Sì. Quella che vuoi tu? Grazie, padre. Ragazzi, ora io vi chiedo una cosa. Secondo voi, ditemi se è possibile, c'è Watch Now. E questo è il mio piccolo miracolo.